Una cartica che io guardo a dove te scrivi Che te sogno e che te quiero tanto Che se al rato sta in mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Bentornati a tutti, riprendiamo ci sono lasciati Vabbè che non è uscito da lì Però seguiamo Non ce ne sono Come l'ultima volta che hai cercato di salvare Dannazione, non mi entrerai nella testa Esatto Sceglieremo qua ad arrivare Ok Ok Allora Allora Posso cantare la mente Ammazzatelo Ok E' un'escalante. Oddio, devo andare a farmi... ah, guardate questo giro, giro tondo, io andrei su questo qui, esatto, esatto, no, vabbè, 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 vabbè che sta pregando non ci vado coppia qui sembra finito proviamo devo andare a cercare qualcosa ehm facciamo qualcosa guardia non è che devo stare attendo che questo nascono se non la fosse ehm ehm non ci vado 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 un nuovo discolo, a ver... ok non dovrebbe vedere dovrebbe andare verso destra non lo so sto perdendo un sacco di tempo ma non voglio sopprecare munizioni non è il pompa non è il nipo non è che riesco a matarli tutti così vorrei che arrivasse per un boss e... vai, ciao ciao un po' di prima di lancia fiamme giurati bene giurati bene però c'è una cosa che non guarda dai dai troppo lento adesso non posso più no ok ci sono sotto ok ok guarda ok allora ok 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 ciao 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 ah 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 dai corri mamma mia dai dai ok quando potrei svolarli giusto giusto oh no c'è un po' sta va 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 c'è una 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 un un una e quale l ma dai ma dai se la non mi sicura ma ok ok no ah 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 no proprio ora va via 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 la baffanculo dai però che cazzo ma mia oh bravo 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 che fa solo questo scusate non voglio spercare un'emozione come ho già detto dai moriti che non chiuso lo tuo d'altro che siete due sciocchi è due semplici sono semplici no è vero si sono facilissimi sinceramente vabbè oh è bordo mi hai rotto il cazzo mi hai rotto il cazzo vai vedi la pistola va bene va bene va bene va bene non è morto va bene non muore ma va bene va bene che devo dire non lo volevo usare lo volevo usare che tonda giocata così mi gioca si va conto non per farci nulla vado ok ok andagli a prendere i cosi che sono munizionizzato non non sa che devo sparare per forza non 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 gira sempre beh vabbè all'invento ora ma incolto stavolta no allora ce ne vuole più di uno ah beh poi vedo E' una famiglia da solo, non lo vedi solo con me. Se pensi che aiuterò uno stronzo come te a distruggere degli stronzi come loro, sei più pazzo di quanto sempre. E' una famiglia da solo, non lo vedi solo. Non lo vedi. E' una famiglia da solo. E' una famiglia da solo in gost Coste. E' una famiglia da solo in superficie. no o parci un po' e' tornato c'è anche la chiave oh i lento ma due chiavi e diciamo che mi faccio un cazzo 2 più schifose annaggia un attacco ancora più potente anche quella buona anche quella ottima l'energia l'energia davanti qua beh ce la faccio 7500 e poi 12900 l'energia ormai lo scusato l'energia 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 sorditi con calcio non sono contro coltipi nemici oh non so che fare ragazzi non mettere questo l'energia facciamo di questo non è riflessi non lo fa la barra prova andiamo avanti così dai lo seguiamo dai entra non vuoi perdere ho perso troppo tempo che c'è il calcio nello la mia ma la mia no no il voto Non lo so, non lo so.. Si è avantiato 5 Non lo so, non lo so Grazie a tutti. Growski, calci, 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 calci. a 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 oh 1 parliamo 1 2 peace dai au però l f l la papa Dai! Oh! Il mio figlio! Il mio figlio! Non lo so! Guardami dai! Oh! Girono come le satanate si girano! Dai! Dai! Poco di merda! Oh! Non è giocata, ragazzi, no! Tutto stealth! Non è fatto per me! Ma lo devo fare! Logicamente mi va a fare spazzali! Ottona! No, 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 no! Vediamo questo, perciò andiamo! No! No, no, no! Ok! No, no, no! Ok! Ok! un po' al proprio notto un po' di idee vivile non posso girarmi 2 secondi Eh si, va bene dai, oh dio, giuro mi sto rompendo, giuro, 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 mi sto rompendo. Ah, questo dobbiamo combattere con il fondo, va bene, più che bene, l'importante a me è distruggere e anche se quivo così qua, non è risto altro, ok, va bene, è vero, 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 ok, va bene, è vero. Sì, cosa devo fare di tutti qua è ammazzarli, è un amore, grazie. Cosa va? Cosa va? Troppo un po' il cazzo, questa cosa. Ok, io... No, no... No, ne sono rimasti, grazie. Dieci più da una caricatura. Eh, che cazzo. Vai, no, non c'è la mia madre. Vai, no, non c'è la mia madre. Vai, no. No, non c'è la mia madre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 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 ok no 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 ok 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 se congelamento qua si attiva fatto eh ma che non ci vede 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 eh carica 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 che 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 sai attente che 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 Ehm, lì... 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 Allora... 1... 2... Ok... Oh ok... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.